salve a tutti buongiorno buon giovedì parliamo oggi di una cosa un argomento che coinvolge totalmente le persone coinvolge completamente la vita di un argomento che se lo pensiamo bene noi possiamo veramente comprendere la sua grande portata il colore sì il colore e solitamente quando si parla di colori o cose simili si ci si concentra sulla pittura ci si concentra sulla sulla bellezza delle cose che vediamo con i nostri occhi e non pensiamo a cosa realmente accada a cosa veramente sia il colore ci soffermiamo a guardare la bellezza di un paesaggio l'incarnato di un bambino i capelli della nostra partner o del nostro partner gli occhi e sono verdi sono azzurri sono marroni nocciola neri osserviamo per esempio la natura che ha come sua dominanza e il verde osserviamo il cielo che apparentemente ha una sua dominanza azzurra osserviamo la terra con i suoi marroni con i suoi grigi con tutto ciò che è veramente colori che sono vitali la notte ci appare scura però illuminata e trapuntata di stelle ossia di colori tutto ciò che noi che noi vediamo sono colori non ce ne rendiamo conto perché noi pensiamo che ciò che vediamo sono forme ma non ci rendiamo conto o perlomeno all'inizio non ce ne rendiamo conto che la forma è solamente colore fateci caso se state buon caffè e buon sono buona buona giornata a tutti ancora da tutti coloro che mi salutano e anche a coloro che aspettano magari una risposta in altra maniera non mi sono dimenticato di voi sono di sbrigo le cose man mano che arrivano e non faccio saltare qualcosa prima dell'altra quindi però non mi sono dimenticato mi dicevo noi pensiamo per esempio le cose che vediamo di fronte a noi un saluto che abbiano una forma sicuramente la tocchiamo questa forma no però noi ci soffermiamo sulla vista e noi osservando per esempio una bella tazzina di caffè no che come ha detto prima il nostro amico michele si sta facendo noi guardiamo la tazzina e vediamo questa è la forma della tazzina ma in realtà cosa stiamo vedendo veramente noi noi stiamo vedendo dei colori magari è la tazzina classica dei caffè marroni fuori bianco dentro sapete quelle solite in italia per lo meno mi ricordo sono forse ricordo anche un po un po antichi però mi ricordo c'era queste tazzine lavorato molto come da ragazzo come barista per mantenermi agli studi quindi erano anche in autogrill e quindi erano marroni fuori bianchi dentro con uno che si si incuneavano per noi questa è una forma ma guardiamoci ora di fronte guardiamo le cose che noi stiamo stiamo vedendo e osserviamo tutte le cose che stiamo distinguendo e che pensiamo siano forme ok sono forme ma guardiamo in altra maniera per cortesia guardate come vi sto dicendo io osservate quello che avete di fronte a voi osservate bene qualsiasi cosa e vedrete che voi potete distinguere tutto questo solamente perché sono colori diversi a bene è un'ottima esperienza lavorare bellissima piace molto perché c'è contatto quindi noi vediamo tutte queste forme li distinguiamo ma in realtà stiamo vedendo i colori immaginate se queste forme non avessero colori se fosse tutto bianco che anche un colore se vogliamo essere la somma o tutto nero o tutto rosso o se ogni forma non avesse il suo colore sapete che se una forma non avesse il colore noi non vedremmo con la forma se la tazzina di caffè non avesse quel colore bianchi doppi colori non li vedrei non la vedremo sarebbe invisibile beh è anche la tecnologia su cui si basano alcune capacità di rendersi invisibili per esempio in magia osservati per esempio che osserva il computer due schermi poi osservo dietro gli schermi c'è il pavimento distingo un tappeto di origine persiana guardo a terra guardo la scrivania guardo il telefono che lì i fili messi lì guardo il telecomando dell'aria condizionata guardo tutto e ognuno si distingue dai colori o perché un colore e uno avanti e l'altro dietro o perché si sovrappongono e si mischiano se io sto attento a questo nodo noto tutti questi grazie grazie francesca grazie sarà detto con guardo questo vedo che sono solo colori sto usando la vista attenzione ma noi questi colori non li vediamo solamente con gli occhi perché uno può dire certamente la vista sapete la tecnica classica che si sanno il fotone batte su qualcosa e ritorna indietro noi vediamo il cosiddetto colore che solitamente ricordatevi è l'opposto quasi di quello che noi vediamo all'esterno quindi cosa succede succede che anche quando noi chiudiamo gli occhi e dormiamo noi sogniamo realtà che cosa sta succedendo attenzione fermiamoci a uno dei cinque sensi avrò modo poi perché quello che farò sarà basato su tutti e cinque i sensi quindi partiamo dalla vista poi prossimamente sarà l'odorato l'udito il gusto e il tatto ognuno c'è la sua magia ognuno c'ha le sue tecniche che poi vengono assommate dalla mente però andiamo piano altrimenti ci ci perdiamo in cose magari in dettagli che possono essere deleteri all'inizio per capire quindi noi stiamo usando una vista anche quando dormiamo e sogniamo di un bel cavallo in un prato stiamo vedendo il colore del cavallo che è sovrapposto al prato tranne magari all'erbetta che sotto verso i piedi gli zoccoli del cavallo che passa davanti e vediamo un altro colore che passa avanti ne facciamo dopo le domande facciamo dopo le domande comunque posso dire che è l'elemento più di conoscenza va bene le domande le facciamo dopo è giusta la domanda ma rispondo ancora meglio dopo l'elemento maggiore di conoscenza no e capiremo perché cosa succede mi sistema meglio succede che a quel punto cosa sta funzionando di noi stanno funzionando gli occhi senza occhi sta funzionando la coscienza sapete la denominazione massima della coscienza e che essa sia luce di conseguenza essendo luce la coscienza si diversifica in tanti colori ricordo quando tanti anni fa venne iniziato in una società segreta all'epoca che diedero la commissione di fare una specie di bacchetta che in alto era bianca e poi tutti i colori dell'arcobaleno e nel mezzo sotto era tutta nera che indicava lo spirito che si diversificava nell'iris e quindi nei colori dell'arcobaleno quindi tutte le possibili manifestazioni o che scaturivano dalla luce unica lo possiamo vedere anche con il primo con il prisma no la luce bianca arriva e lo è diversifica e la luce bianca nei vari colori dell'arcobaleno è possibile anche fare l'inverso quando vediamo il bianco e l'inverso cosa sta succedendo in quell'istante e questo per rispondere anche a marco perché la la luce il colore e la coscienza la più alta manifestazione coscienziale e la più alta concezione spaziale di conseguenza se noi facciamo un disegno e lo coloriamo noi stiamo generando un mondo poi per vitalizzare questo mondo lo vedremo perché immaginare qualcosa o di si disegnano vederla con i colori non è generarla è solamente disegnarla vederla o immaginarla poi a generare ci pensa l'altro senso che no dalla bocca e quindi il verbo che non ha a che fare con i cinque sensi ma che fare con qualcosa di ancora superiore la voce il verbo quindi possiamo dire che il colore e il logos la coscienza no il verbo è il nus viene generato direttamente quindi nus e logos cioè coscienza e parola sono uno quindi visione e parola da uno nus e logos si aprono direttamente nella materializzazione e da coscienza la coscienza diventa voce scusate detto prima che metto l'inverso il logo se la voce il nus e la coscienza per vecchiato almeno però perlomeno mi corretto quindi cosa succede succede che noi siamo immersi completamente in un mondo di colori non di forme perché finché non tocchiamo quella entriamo nel senso del tatto quella non è una forma è una visione di colore io posso dire che tranquillamente qui adesso sta piovendo vedo l'acqua che scende ma non posso essere sicuro che quella sia l'acqua che io conosco perché non la sto toccando posso pensare che sia l'acqua ma non ne posso essere sicuro poi vado la poco di vai acqua ma tramite il senso del tatto oppure l'odore di acqua oppure il gusto di acqua oppure il rumore no passi ma quel rumore per dire però e pensiero è un po complicato sembra ma non lo è quindi voi siete immersi in tanti colori ma è una cosa molto importante se voi guardate intorno a voi non c'è soluzione di continuità cioè voi pensate che ci sia il vuoto non c'è se state guardando dei palazzi o delle case queste sono case poi guardi medici qui non c'è niente poi ci sono le altre case non è vero ci sono i colori delle case di un colore i colori del cielo i colori di altre case guardi giù i colori della terra guardi te il mio colore quindi non c'è assolutamente mai vuoto cioè ovunque spostiamo la vista noi vediamo colore anche se di notte è tutto buio è un colore questo è molto importante per la magia perché ogni colore è una vibrazione della mente è una è un funzionamento della mente è uno stato di coscienza della mente tanto è vero che se io ho e in magia si usa spesso o in alchimia la capacità di avere dei colori particolari in determinate situazioni io genero nella mente uno stato particolare corrispondente a quei colori se poi ha rafforzato con gli altri sensi tanto di guadagnato non entriamo direttamente a piesso spinti nella magia cerimoniale rituale che è nostra occidentale proprio entriamo proprio trionfalmente in tutto questo perdendo di vista ciò che sono gli orpelli su cui noi ci perdiamo a vedere le bacchette i cerchi i vestiti i simboli le luci i pavimenti le tende no tutte queste cose qua spade data talismani se noi non ci perdiamo dietro queste questi pensieri ma guardiamo solo il colore noi entriamo in un mondo fatto particolarmente di coscienza colorata dovete capire una cosa no non so ma leggendo i romanzi i libri non ne leggo più tanti non sembra di perdere tempo a leggere queste cose non è da tanti anni però no si diceva spesso in questi in questi racconti no specie che ne sono i racconti noir i racconti rosa i racconti rossi il giallo perché perché il giallo deve rappresentare il thriller lo scoprire perché il noir non indica qualcosa di omicidi e cose varie nascoste i romanzi bianchi per i bambini prima adesso non è tutto ciò che è chiamato arcobaleno misto di questi colori di queste cose perché il rosa i romanzi azioni per le ragazze così perché non ci sono i romanzi azzurri però domande inutili però non è utile se noi stiamo ragionando perché questi colori e vengono detti questi colori per sintonizzarci sulle storie io mi ricordo quando ero ragazzo che scrivevo delle sceneggiature per una casa di fumetti mi ricordo che mi diceva la persona che mi istruiva si vogliamo bravissimo scrittore di sceneggiature mi diceva tu devi scrivere in maniera che la gente anche se vedi il fumetto in bianco e nero lo pensi a colori devi dare la vita a queste cose devi farli funzionare la mente perché la loro mente pensa colori e quindi devi scrivere una storia che gli porta dentro quel mood colorato di rosa il giallo il nero il rosso il verde tutte queste queste cose qua per esempio ieri ho visto una mostra una rappresentazione della vita di van gogh fuori in una atti fece anche un esame all'accademia e a tutto colore non si vedeva direttamente che il pittore guardava il colore si stiamo avvicinando piano piano vedete che sono furbo riposto piano piano dove vi devo portare non disegnava a matita si li faceva ma il miglior gogh era osservare colore e mettere colore tanto che lui quando mangiava i colori perché purtroppo andando verso la follia lui voleva diventare colore lui voleva essere colore voleva trasformarsi in colore perché la più grande magia è fatta dai colori se poi adesso dovresti immaginare la luna o il sole o qualsiasi altra cosa e ci togliete il colore potresti immaginarlo no non è possibile il colore e la creazione e qui abbiamo il secondo punto il colore in magia e creazione senza colori in magia non hai la forza magica finché fai bianca in nero le cose sono in bianca in nero ossia ad un livello inferiore ma quando cominci a lavorare con il colore tu sali di livello perché entri direttamente nella potenza della natura quando sempre nella stessa società occulta ragazzo giovane ben introdotto ai gradi superiori ti mettevano dentro una cosiddetta cripta in cui c'erano tanti colori la tutta colorata di tanti colori giallo rosso verde nero bianco prugna tutti i colori possibili però con i loro complementari quindi c'era una botta veramente molto forte entravi colpito rimanevino illuminati in una certa maniera c'era il tutto poi andava a spezzarsi con ciò che era il bianco e nero sia del pavimento in cui è rappresentato un drago da sette teste bellissimo e del cielo in cui c'era disegnata una rosa croce meravigliosa però tutti in bianco e nero perché quelli erano a colori i muri e sopra e sotto in bianco e nero c'era un motivo ben preciso che è inutile andare adesso a dire no non c'entra però però ti invitavano a guardare ciò che era intorno poi nel tempo fu colorato sotto e sopra ma è sbagliato perché doveva essere bianco e nero oggi fa tutto esempio quando vedo anche dei dei disegni delle foto antiche colorate devono essere bianco il colore creazione il colore smuove un potere profondo della mente che è anche presente durante il sogno per esempio quindi immaginate quando sognate state creando state creando state creando di solito questi colori o mente il movimento mediante la coscienza visiva genera la vostra realtà o da cui verso il sogno o dal sogno verso qui da qui cominciate a conoscere noto scritto accennato in un ultimo blog sul sito o la magia o l'alchimia mentre la magia influenza dal sogno col colore alla vita la cosiddetta di velia reale l'alchimia posto da qui influenza all'altra parte quindi abbiamo le due conoscenze perché ai pianeti si danno colori ma veramente pensiamo che che ne so che giove e sull'azzurro potrebbe anche esserci potrebbe anche esserci però in realtà gli antichi diedero questi colori secondo una scala progressiva di ascesa o discesa a secondo come si guardava la potenza planetaria astrologica di un pianeta dall'alto saturno nero fino alla terra nostra verde passando per l'argente o della luna bianco argente o della luna che il sole ha avuto diversi colori ha avuto il colore giallo il colore oro ha avuto il colore arancio ha avuto il colore rosso anche a secondo quello che ha avuto anche il colore nero in alchimia c'è anche il sole verde tutti per dire delle fasi della coscienza cosa fa questo bene il colore vi mette in contatto diretto con il raggio diciamo magnetico o coscienziale corrispondente permettendovi di avere direttamente una risposta della zona profonda in cui andate a toccare e l'immediato e diretto mediatore per ottenere qualsiasi cosa per ottenere sia la consapevolezza più superiore sia per avere contatto con forze che sono naturali e che vi danno la possibilità di conoscere parti di voi profonde ma anche l'universo da qui la magia del colore fare un quadro fare delle pitture particolari che possono portarci a generare letteralmente le cose che vengono dipinte tanto è vero che ripeto dal sogno mediante questi colori che si muovono nel sogno a cui noi diamo il nome di qualcosa vediamo un cavallo ripeto questa forma di colore noi lo chiamiamo cavallo perché è forma una forma chiamata cavallo ma ricordiamoci che la forma e il colore non possono essere disgiunti sono un'unica cosa non ci fosse il colore la forma sparirebbe pensateci vabbè diventerebbe bianco no anche quello in colore diventerebbe nero no anche quelle un colore vi state rendendo conto della potenza del colore il colore da da l'apparizione colore della vita beh se non ci fosse la luce del sole che genera tutti i colori che cosa potreste vedere non ci sarebbe creazione lasciamo stare la forza della vita li darebbe la l'energia darebbe il respiro darebbe tutte queste cose qua e poi poi facciamo le domande dopo non vi sto ignorato un po di pazienza poteva dal legge ok questo è il mio intento di un cammino che faremo verso i cinque sensi il loro vero senso attenzione che sono chiamati cinque sensi ma nessuno capisce che sensi indica qualcosa che deve avere un senso cioè se io vedo mediante la vista la vista mi dà il senso della vista mi dà il senso delle cose viste ma ricordatevi che ogni senso è separato dall'altro è un tutt'uno qui c'è il disco il dispiegamento della stella si dice a cinque punte o dei cinque poteri dell'essere umano solo ma l'essere spirituale che si collega appunto alle alle capacità di vedere sentire odorare gustare toccare quindi un oggetto reale un qualcosa di reale e reale solo quando è visto udito toccato gustato odorato nello stesso momento se visto con uno dei sensi esso non è proprio reale è un prodotto mentale a cui non avendo l'appoggio degli altri quattro sensi non possiamo dare una realtà vera diciamo c'è ecco perché magico e magica e magico il colore quindi ciò che veniva usata anticamente perché da la creazione di caduta luce quindi colori voce forma che appare densa tata tata i tre passi coscienza tu sei io sono io so di essere voce sia suoni che si mischiano e generano forme ne abbiamo visto spesso non andate su youtube scrivete cinematica cosa va c'è un suono e genera forme non è l'opposto quindi c'è una luce ripeto tutti i colori mischiati scende a secondo livello mentale della coscienza scende a livello mentale la mente sono i pensieri se io dico sedia sto suonando questa parola devo suonando una sedia nella vostra mente appare la sedia che dico bottone con quattro asole voi state vedendo un bottone con 4 ma non ho dato un colore però la mente ve lo genera direttamente perché altrimenti potete vedere un bottone provate a vedere un bottone senza colore provate dov'è il bottone senza colore oppure dico che ne so spada ma non voglio il colore però non ci mettete i colori una spada senza colore sare capendo la potenza delle cose per loro quindi da questo flusso di luce infinita che mantiene tutto ma che per questo è bianco scelto quando dici e come quando dici una parola è come se vai prenderlo metti giù e lo formi da qui poi scende giù la voce lo genera e viene appare nel mondo dei degli oggetti diventa denso o apparente dentro se vogliamo questa è la magia l'alchimia l'opposto da denso prendi un oggetto prendi una materia prendi un metallo e lo lavori ne conosci colore forma posizione e di conseguenza forza e potenza per sempre peperoncini la maggior parte dei broncini sono rossi non la natura per dare dell'avviso molti animali oppure piante hanno il colore strano tutti i colori stare per dire che per avvisare io sono velenoso i colori hanno un linguaggio si chiama il linguaggio dei colori ora i colori vanno dal detto punto nero all'infrarosso fino a salire fino all'ultravioletto e al bianco puro quindi si dice che uno è molto denso materiale uno è molto denso spirituale qui non dobbiamo fare però il distinguo di male bene non è così perché ci può essere anche un essere altamente spirituale e si è voluto su una strada un po differente da ciò che noi pensiamo sia la moralità per essere delle brave persone brave e che altamente spirituale uguale perché nell'universo in cui si è voluto magari non esistono i nostri pensieri di moralità etica eccetera eccetera no quindi significa semplicemente una cosa molto densificata proprio densificata una cosa completamente senza densificazione nella nella scienza ammonia si dice sole saturno non guardare i pianeti è un modo di dire luce pura densità massima va bene non per niente il sole bianco giallo si dice il saturno è nero perché anche in astrologia tutti guardano sempre ma io dico guardate anche saturno per il corpo fisico perché il corpo fisico la vostra massima densità la rossa ma la vostra massima massima pietrosità e con la magia quindi se noi abbiamo saturno che proprio nero 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 scuro profondo e si trova in toro che è di un bel verde brillante e allora questo saturno se molto potente lì oscura un posto verde brillante se invece questo verde brillante e più forte e ci sono i modi va a schiarificare un po di questo saturno e quindi va a chiazzarlo un po ecco che cominciamo a vedere immagini avesse un saturno c'è un nero e un verde mischiate le ora portate tutti tutti i pianeti no in modo di toglietevi l'idea solamente fisica che vi hanno dato meccanicistica dei pianeti no delle pietre che girano nel cielo togliete le primati immaginate il vostro grafico immaginate che sono solo colori immaginate mercurio che tutto tutto colorato di tutti i colori dell'arcobaleno giallo verde blu fluttuo a tutto si cambia tutti i colori possibili e si trova magari che ne so il leone dove c'è quell'arancio ora dorato meraviglioso dell'estate di adesso ma che succede ma se si trova invece nella casa della luna in cancro che tutta argente a che succede cosa fa e se per caso allora immaginate giove questo color celeste azzurro che si trova per esempio in ariete che il rosso puro che succede come si mischia che colore ne deriva quel colore che ne deriva e l'influenza quindi ecco che è uguale dire giove in ariete da l'influenza di x è uguale immaginare il blu azzurro azzurro il blu è una cosa po diversa l'azzurro in in ariete dice scusatemi l'azzurro sul rosso la risultanza immaginate quindi tutto questo che vedete come colore perché lo è perché fa apparire le cose bene immaginate che tutto questo voi sappiate metterlo sulla tela sappiate disegnare anche chi non si entra a disegnare serve il colore non è che devi fare la forma se non la fare fare sì ma io non so fare la faccia chi deve fare la faccia la puoi anche stampare la faccia e il colore quindi se voi immaginate solo questi sette colori poi ci sono anche gli altri con i dodici che sono i segni con i colori delle case che si muovono con i colori che ci sono delle stelle dei decani dei quinari delle dode catemorie dei gradi tutto questo colore questa cosa che si muove noi possiamo cominciare a vedere delle scie di colori che si muovono delle cose che girano ma lo vediamo direttamente nel nei due quadri di van gogh per esempio dove c'è il il quadro del paesino di san remino mi ricordo dove c'è sopra il cielo con le stelle che ridono perché ruotano lui vedeva questi colori e poi l'altro che era con le luci su un fiume quindi noi lui vedeva colore vedeva ossia le energie ci siamo arrivati colore uguale energia il problema della nostra civiltà e che questo è stato reso molto denso è stato reso meccanico che noi andiamo al nostro ufficio ci sediamo e vediamo oggetti non vediamo colori quindi oggetti che sono diventati fissi nella nostra mente quindi non ci permettono di elevarci non li vediamo come energie non possiamo pensare che questa scrivania un'energia anche se lo è perché vediamo il pensiamo il legno sentite il rumore pensiamo il legno diabete ma non vediamo questo colore ma questo colore per capire cos'è questa beta e questo marroncino chiaro giallino con venature marroncine dove sono i nodi eccetera che significa bene se noi questo lo traduciamo nel linguaggio astrologico magico vediamo che il giallino è sotto qualcosa il marroncino sotto qualcos'altro magari è stato costruito da due colori perché noi abbiamo tre colori primari e poi abbiamo no gli altri colori separi terziari eccetera 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 e così perché ci sono come delle io qui sto vedendo no questo nodo che c'è su questo questo pezzo di legno sembra una galassia bellissima e marrone no e sembra galassia sono galassie questo sono proprio così spirale spirale come mai non è che hanno un contatto con le galassie ma non è che io posso usare questa forma per creare la vita o per creare qualsiasi cosa che per me è vita qualsiasi situazione qualsiasi situazione qualsiasi azione qualsiasi pensiero perché energia che metto in moto e forza quindi se entriamo nel nostro ufficio ne vediamo il nostro capo e non lo vediamo come il nostro capo o vediamo che ne so la segretaria o vediamo andiamo che ne so lavorare in una ditta e ci sono i nostri colleghi in tuta blu tuta nera e smettiamo di vedere giovanni in tuta blu con in mano una chiave inglese e vediamo solo colori noi stiamo capendo quell'energia come si manifesta che cos'è a cosa corrisponde come cosa ci vuol dire che misto di energie se sono vari colori secondari e terziari quattro eccetera con tutti le varie scale no nella cavale esiste la scala del re la scala della regina scala principessa scala del principe della principessa sono tanti colori no che si mischiano che girano che ruotano e ti dicono queste sono le energie sono pensate che erano nascosti non venivano rivelati finché non sono stati rivelati poi da altri perché perché dicono energie con il funzionamento della mente perché perché voi pensate con i colori ieri sono andato a mangiare un gelato sono colori ieri e vi appare l'immagine di ieri sono andato vi appare lo stesso la strada tutti colori metti insieme che dite strade io gelato colore colori avete generato una cosa è questo che cominceremo per quanto riguarda il seminario non lo faccio il seminario ve lo dico che cos'è poi se vi interessa bene sennò ce n'è leggete gate per esempio la scienza dei colori è bellissimo leggete gate la scienza dei colori grande mago se vuol dire il filosofo mago artista no e potrete andare a fondo pittura magica un'antica scienza magica dimenticata come fare magia dipingendo ed ottenendo grazie alle immagini e ai colori immagini maci animate sarà il 19 agosto di questo mese se poi infesi di feria c'è problema poi lo rifacciamo però questo qui sarà fatto il 19 agosto e andremo a fondare a vedere cos'è il nostro vedere a colori sapete che tu dicono io sogno a colori significa che un sogno un pochino superiori io sogno in bianche nere un sol corpo lunare i colori sono del corpo mercuriale questo creano poi questo qui per quanto riguarda poi a settembre vi avviso che c'è il secondo seminario della scrittura automatica contatto con i cieli quindi da prima abbiamo imparato a contattare profondamente noi stessi e altro che sapete il secondo e con i cieli e poi faremo sempre a settembre liberazione della coscienza attraverso i film tiferet dovreste vedere il mondo nuovo o leggere però questo ne parleremo dopo ne faccio solo uno seminario perché agosto tutti mi scrivono buone buone ferie maestro buone per i mesi non ci vado quando qualche giorno così magari sotto ferragosto un pochino così così non vado a fare ferie quindi fate che mi state scrivendo e sì 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 vedo qua sì sì questo chi era per settembre in pratica ho visto perché avevo messo qui avevo messo loro un attimo o me avevo messo devo andare a prendere l'altro sotto ecco direttamente quindi noi abbiamo il seminario di tifaret a settembre e poi se le persone sono disponibili avremo il seminario che sempre sui clifford ed inezza questo mese però non ne ho parlato ancora perché penso che non ci saranno persone quindi penso che voglio lasciarvi liberi se ci sarà la possibilità io lo metto nel direttamente sul come si chiama sullo store se ci sono le persone lo facciamo se non lo facciamo a settembre spostiamo però sicuramente questo mese sarà fatto quello sulla pittura magica è molto importante proprio basandosi sui colori spero di comunque sarete informati perché domani per domande poi domani spero che vi ho fatto comprendere cos'è il colore quando amate una donna voi amate il suo colore perché lo vedete se sparisce il colore sparisce la donna così sparisce l'uomo di sparisce il bambino dovete rendervi conto se non vi rendete conto di questo non possiamo andare avanti quando avete un quadro andate a louvre andate agli uffizi andate a quelle vuoi rimanete impressionati no quello è il colore si chiama sindrome di stendhal rimane c'è rimase impressionato dalla meraviglia della pittura tra l'altro nostra italiana a louvre chiaro cioè se non c'è colore non c'è non c'è coscienza se non c'è colore non c'è realtà se non c'è colore non appare nessuna realtà se lo capite fate l'inverso la realtà si genera dal colore ecco la pittura magica ecco la conoscenza della pittura magica quindi questo sarà il 29 di jay suati il 19 agosto ok e poi il l'ho vista adesso qui adesso che l'ho aggiunto io eccolo qua io lo provo a farlo e l'ho aggiunta adesso il 26 agosto se siete interessati c'è anche la liberazione della coscienza attraverso i film nezza l'ho aggiunta adesso perché mi ha scritto ma come su line privatamente ma come non lo fate sì lo facciamo e qui voglio dire quindi lo mettiamo lo metto qui il seminario del 26 agosto sul nezza se c'è qualcuno se non si rimanda c'è non andati in ferie tranquillamente poi a settembre faremo seminario secondo seminario sulla scrittura automatica il contatto con i cieli quindi con i cieli con i pianeti proprio e altro molto profondo e la tecnica classica e poi c'è la liberazione della coscienza attraverso i film conti farete ma ne parleremo dopo a settembre quindi ho aggiunto poi perché ho visto guardavo sul line sono arrivati 15 messaggi quindi almeno 15 persone ci volevano quindi il 26 agosto liberazione della coscienza attraverso i film nezza e poi il 19 agosto pittura magica un'antica scienza magica dimenticata bene di quello che stiamo spiegando adesso grazie ai 15 16 che ancora stanno continuando grazie ai venti che hanno scritto quindi va bene allora 26 agosto facciamo questo questo nezza ma ne avremo modo di parlare è chiaro quindi il colore e la coscienza ora possiamo vedere capire la coscienza osservando come una persona si veste come una persona anche si trucca se sono donne uomini che sono oggi come re dalla casa con quali colori quali colori nomina o ama di più possiamo conoscere che energie stanno funzionando sapete cosa sono gli spiriti di colori cosa sono gli angeli colori perché rappresentano una gamma e una lunghezza d'onda dicolo che si manifesta come colore e che voi potete vedere il colore e il nus la coscienza ho finito la parola è il logos la creazione che prende da questo nus della coscienza infinita bianca secondo la parola data dattero dun appare il dattero stato preso e si è formato il battero barca a ognuno se la crea appare la barca ma sono colori no ci dico barca senza colore ci vabbè voi lo potete immaginare sgrattata e senza colore e penso quello sgrattata no a colore sotto senza colore non esiste state capendo la cosa news luce colore logos lo prende e lo genere nella mente e poi c'è l'azione topos viene chiamato che la topografia di quello che scende giù e poi diventata soltanto la scienza delle delle mappe ma non era così perché nell'antica magia era news esiste eterno logos lo crea topos lo mette in un toponimo in casa neanche qui la mia stanza c'è c'è il suo toponimo i tuoi i suoi toponimi dice da scrivani la poltrona qui c'è il topos della poltrona topos della scrivania il topos della della libreria e ognuno c'ha le varie cose una donna che si veste sempre di nero e rosso cosa può indicare vai a vedere i colori nero e saturno rosso e marte cominciate a fare queste cose facile andate a prendere un libro di di astrologia o di significanze e vedete io ti consiglio di leggere la scienza dei colori di goethe super per esempio le le icone no le icone orientali no bellissime che fanno dei colori straordinari poi devo dovevo rispondere angela sia una visione di un personaggio fuori della mia porta con mani ed unghia dunque che tipo di tv con una maglia azzurro elettrico indica problemi con la parte negativa di giove va ora no le immagini che ci appaiono sono sempre collegate alla nostra esperienza bisognerebbe vedere che cosa si è letto prima cosa si è pensato anche nei mesi precedenti e cose prima di andare a dire significa questo solitamente si dice un controllore solitamente e quindi da colore e quindi certo che se è legato così e così una figura non tanto positiva con un colore di quello certamente sta interpretando ma invece bene non male però devi vedere cosa hanno le cose pregresse navighiamo un po nella un essere umano cieco dalla nascita essendo dotato di coscienza dovrebbe comunque percepire mentalmente i colori ma il nero è un colore con loro percepisce poi se ci dipende dalla capacità magari il nervo non non è completamente privo di capacità magari vedere scintille io quando ero a manduria c'è un posto di di sordomuti bravi ragazzi andavo mi tentavo di stare vicino perché mi piace mi piace sempre imparare il linguaggio ma c'erano anche dei cechi della nascita e dicevano che vedevano scintille o colori che non sapevano vedevano cose che non sapevo interpretare però il colore lo vedevano il nero alcuni vedevano il bianco dicevano non lo so qualcosa di io tentavo di spiegare di parlare ma il nero ma non era possibile spiegare che ha un cieco dalla nascita non puoi come un soldo della nascita però dicevano che non c'era un'unica sfumatura diciamo così cioè non c'era un io dicevo c'è un un'unica un'unica immagine se tu sei con gli occhi chiusi vedi soltanto una cosa unica come un fiume e cos'era però un fiume l'acqua che non era ma il mare fiume chidro c'è un piccolo fiume toccavano vedi l'acqua che scivola la vedi nel sì questo si chiama fiume l'acqua che un'acqua che così così si tentava e alcuni dicevano che capivano quindi il colore lo vedeva sempre non è possibile non vedere colore perché colore e la coscienza se non c'è coscienza se non c'è colore non c'è coscienza non c'è poi quindi sensi sono un portale per l'astrale che immagino sia anche un flusso di colori su sì e questo è un portale assolutamente la magia rituale no i cinque sensi sono usati per questo io io dissi tempo fa nella magia rituale gli oggetti e quindi colori e cose sono usati come una sorta di jiu jitsu mentale prendendone in carico la forza e usandola al nostro vantaggio invece di essere piegati e che dicevo quindi di conseguenza ciò che ci fa accadere ci può portare in alto dipende poi dall'interpretazione è così però sono porte per l'astrale sono cinque porte poi i metodi trasparenti come vanno intesi sono sempre colore sono sempre colore e sempre colore non è assenza di colore e colore perché materia trasparente se è messo su qualcosa sembra trasparente alla nostra vista ma in realtà un'analisi maggiore non è mai trasparente veramente perché esiste l'inter c'è l'interferenza e quindi magari se alla nostra vista normale visto un giallo con sopra in più il trasparente che noi usavamo per disegnare quando era l'accademia no facevi tutte le forme sembra sempre giallo ma invece se lo guardavi bene 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 non era veramente quel giallo che vedevi si toglievi trasparente prova è sempre colore non può esistere nulla senza colore poi io amo tutti i colori non nuda di nero non vivo il mio saturno probabile probabile sì poi i quali degli aborigeni australiani con i puntini colorati mi hanno sempre colpito le cosa ne pensa esprimono la loro particolare conoscenza spesi e aborigeni australiani per esempio per loro il sogno una cosa reale noce loro spima di fare le marce le cose aspettano il sogno giusto per loro il mondo del sogno come il mondo di qua quindi il mondo di colori assolute le i dipinti tra l'altro è una bella cosa nell'osservazione di marco perché ci porta direttamente a dire una cosa importante notate la magia degli aborigeni o di cd persone che non sono magari no troppo industrializzati hanno colori vivi forti poco mescolati molto primari indica che proprio l'energia è molto forte questo va a indicare anche poi da qualche tempo riscoperta la mia passione giovanile per il disegno e la pittura quindi discorso di oggi mi interessa molto sono contento perché è lo spirito che si muove per creare i colori sono uno spirito creativo ripeto se dico michele immagine la chiave di casa tua pan ti appare il nome chiave colori ma nota che l'immagine di chiave ti appare su uno sfondo di colore questo è nero giallo giallo ma è sempre uno sfondo su uno sfondo se non può apparire anche se come diceva il nostro amico prima c'è l'altro marco trasparente ma sta facendo staccare la chiave e quindi noi c'è un colore sotto che non interpretiamo ma c'è a quale film è collegato a il the new world il mondo nuovo c'è una piccola serie che però stanno bloccando e questo mi ha colpito perché non si trova da nessuna parte che devono comprensori il dvd c'è una prima stagione del new world e non la fanno vedere quindi cercherò che c'è qualcosa se noi il libro in ogni caso ci sono dei trailer in internet che fanno anche capire di che si parla alla fine ci basta anche quella all'inizio però c'è il dvd e cose varie e ora cercherò e l'ho trovato in altra maniera vedrò di parlare con chi lavora con me per ottenerlo perché da quelle parti e così magari ve lo distribuisco io poi non vogliono a te e poi trutoni salutoni a te e gianni un inchino a buonestate grazie per poi io da piccolissimo ho disegnato tanto il sole nero e hanno chiamato i genitori a scuola per chiedere spiegazioni i psicologi moderni che nulla sanno di queste cose peraltro posso garantire il sole nero indica la coscienza più profonda densa materiale che vuole conoscere la materia e tutte le esperienze sono erano e negativo lasciamo stare poi che cosa ci è stato dato da precedenti purtroppo socialismi o non socialismi solo nero è semplicemente alla fine il centro della galassia figuratevi se una cosa negativa poi avanti marinella dice buongiorno messe alcuni uccelli come la gaze sono bianche nere quel nero però contiene molti colori cangianti si verde viola blu rosso possiamo dire che mercuriale possiamo dire che mercuriale tutto ciò che mercuriale tutti questi colori messi insieme sempre sempre noi troviamo una conchiglia nodi madre parli interno lo vediamo quella mercuriale se una conchiglia normale ma quella che madre per l'ata bene che mercuriale ricordo che anche il corpo dell'arcobaleno o il corpo alchemico e l'esplosione di colori poi chi ama indossare abiti di colori giallo arancione rosso cosa indica giallo e il sole rosso arancione rosso e marte arancione più o meno sempre il sole quindi voglio dire vai a vedere i significati di questi tre pianeti queste colori e capisci cosa sta dominando su di te i dipinti aborigeni australiani sono veramente bel sì molto 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 ma anche a ti ho visto anche dei dipinti fatti in brasile da 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 persone di la potenza allucinante oppure i dipinti africani no specialmente non tanto non parlo dei lavori africani del nord africa che è limitata bene o male per via della religione islamica a bellissime cose straordinarie ma limitata ad alcuni colori ma se andate un po più giù delle esplosioni di colori sono quasi violenti dei colpi proprio che l'energia fluisce forte mette gli è nato il vuoto poi anche i suoni possono generare colori beh sì facciamo un esempio se noi andiamo anche niente possiamo vedere ormai grazie a dio ci usiamo in senso buono questo c'è internet se lo diciamo per esempio fa oppure facciamo un suono no oppure mi ci porta verso alcuni poi c'è qui presente ho visto una persona che dall'altro è un mio buon allievo è molto intelligente che fece tanti anni fa era troppo presto secondo me dovrebbe rifare adesso proprio questo suoni che generavano colori quindi quando l'hai fatto 40 anni fa era presto dovresti farlo adesso quindi poi come era mazzotti cantava che un mondo senza musica non si può immaginare certo così mi rendo conto che un mondo senza colore ancora più non esiste anche quando dite non ho sognato nulla e pensate che tutto nero guarda un colore quindi quello vi sta dicendo qualcosa di molto importante maestro riguardo il colore rosso del sangue quelle vita il colore della vita al colore della sessualità e della vita e quello il rosso sangue che non poi se il rosso vivo è una cosa se il rosso a metà è una cosa se il rosso più scuro è un'altra cosa mai e la vita e marte poi sta poi come si ma poi io io quando chiudo gli occhi un attimo vedo spesso viola è bello il viola e viola è un colore molto spirituale quindi indica di solito la capacità di pensiero c'è la mente è abbastanza verso l'alto molto aperta molto ariosa e bello bello viola anche se dicono porta male non è vero è un colore spirituale porta male per chi pensa soltanto ai soldi non certamente per chi pensa allo spirito poi l'arancione non è non è anche molto ma mai sì se lo vediamo come una chiave cabalistica no è molto mercurio ma ricordi che mercurio è vicinissimo al sole no e quindi da giallo diventa arancio quindi però già un arancione molto forte un arancione vicino al giallo come diceva il nostro amico siamo un arancione quasi dorato e solare mentre un arancione più più arancione non so come dire più statico di arancione e più mercurio qui indica proprio la scienza dei colori specialmente anche la cabala deve essere che poi studiata molto leggermente e molto superficialmente sono va a fondo deve cogliere tutte queste sfumature in magia sono molti portanti poi se penso poi al chiaro oscuro di caravaggio ne vengono i brividi bene caravaggio è come di straordinario e luce pura che colpisce gli oggetti nella forma e addirittura e suono questa luce e suono proprio vedi che un suono se vedi un viso che soffre c'è il suono di perviso che soffre poi colibri cangiante mercuriale si marco euro quindi le meditazioni che ci portano aggiungere una luce e madre perla sono e certamente sì tutto ciò che il cangiante no è tutto mercuriale mercurio era il maschio femmina all'androgeno il color giallo blu e rosso che girava sempre colui che era sempre per esempio nell'ulisse di james joyce mercurio è rappresentato come colui che non sta mai fermo e fa sempre con i vari colori che cambia per niente la televisione cinema e sono mercuriali no perché tanti colori si mischiano e non vediamo le immagini poi maria chiara dice che bella grazie come i colori degli abili della danza popolare a si molto colorati sì perché a differenza di una tipologia di danza che è più strutturata no un pochino più no e la danza folkloristica per esempio io penso alla mia puglia dove c'è la pizzica o dove c'è la tarantella la pizzica l'atalanta no che tutta colorata ci deve essere sempre un qualcosa di rosso quindi la vita e poi vari colori verde no c'è tutti questi arlecchino indica mercurio per esempio poi grazie grazie a te poi urano nel labbro cabalisti che lo si può collegare a dat si diciamo che è stato collegato a dat da croley però sì sì se vogliamo sì però ricordiamoci che poi si incontriamo qualcos'altro più avanti io sono un pochino io non uso mai questi c'è questi di questi cosi su questi nuove cose aggiunte no però va bene non metto il mio parere però si urano secondo quindi la cabala crovelliana va a dat quindi ci può collegare a dat se seguite le ma è la cabala croeliana che poi beh si è diffusa ma le vere tradizioni antiche parlano di altro immensa stima anche per te fiorentino al cento per cento e per tutti voi che siete qui tutti grazie poi la stella sirio sembra cambiare colore continuamente beh sai perché doppia una gira intorno all'altra alla fine e poi sicuramente cambiando colore ci ricordiamoci che è una stella che nel cancro e di conseguenza la luna cambia colore e si cambia però è sempre su quel colore giallo pallierino che si ricordi che stella doppia poi sono contento poi una delle cose che amo di più al mondo e viva questo seminario sono contento il seminario non visto che è stato tirato in ballo e il 19 agosto alle ore 9 pittura magica un'antica scienza magica dimenticata e pensate come si può dimenticare la pittura magica che noi che noi viviamo di colori immaginate qui dentro sparisce tutto il colore dove sto più non per niente nelle alte sfere all'epoca che adesso se serve si deve si tolgono tutti i colori a un certo livello di pratica per entrare in un'assenza di colori per fare certe cose ebbe qualcosa di straordinaria sì perché la vita senza colore non pensi senza colore non vedi senza colore a questo punto ti rendi conto anche di un'altra cosa che il colore e la vista stessa che quando vedi è già colore e quando è colore tu stai vedendo perché ripeto quando sogni dormi appaiono colori e creano delle cose anche adesso e dico immaginate una strada in mezzo a un campo la strada è marrone ha piovuto c'è delle pozzanghere a destra e a sinistra ci sono dei un prato con dei fiori gialli meravigliosi a ma aspettate state vedendo anche dei tulipani scusatemi delle come si chiamano dei papaveri che sono sul ciglio della strada o alzate gli occhi al cielo guardate le nuvole in lontananza che appena è finito di piovere e sono leggermente perché stiamo facendo stiamo evocando e appaiono colori 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 la realtà è questa voglio evocare lo spirito di giove come faccia a vederlo sono colori quindi non è che se mi metto in una dominanza magari nord e il colore di giove magari mia veramente mappare lo spirito perché la mente si colore di quell'energia no e andremo a trattarlo tutte queste cose qua se vi è piaciuto lasciate un like sarebbe importante per me se siete qui a vedere e non mi siete iscritti iscrivetevi mi fate una favore veramente grande non chiedo altro ripeto i seminari il 19 di agosto pittura magica un'antica scienza magica dimenticata come fare magia dipingendo ed ottenendo grazie alle immagini magiche animate perché si animano lo vedremo sto scherzando poi siccome su line manoscritto sono adesso 26 va bene grazie avevo detto che saltavano invece no vedo di fare il 26 agosto liberazione della coscienza attraverso i film nezza il film e the new new world che di o il libro di come si chiama non mi ricordo lo scritto adesso che faceva parte sempre di fabiani poi a settembre faremo il secondo seminario della scrittura automatica contatto con i cieli e poi sempre settembre faremo la liberazione della coscienza attraverso i film tiferet vedremo se ci forse ci fermeremo a tiferete o meno perché tigre è già molto alto molto alto ne parleremo una cosa è collegato molto altro tanto che stavo pensando ma non è chi mi ferma annezza vediamo cosa facciamo devo capire la vostra no devo vedere dove devo fare una retrospettiva di quello che è stato fatto le reazioni così e poi vediamo fin dove possiamo arrivare perché porta andando sempre più su nell'albero e può essere un po un po pericoloso quindi comunque nezza il mondo nuovo i axi axley ok ma non ricordato axley grande scrittore fabiano amico di quell'altro che ha scritto il 284 sono tutti fabiani tutti che ne pensa dei decimi tarantino intelligente ma molto violento però molto intelligente forse se parlasse un po di meno delle volte però è un sì sì lo apprezzo l'ho sempre apprezzato specialmente le iene molto bello doveste vedere anche jackie brown che è fatto bene poi tarantino ha smesso di fare questo per motivi hobby voglio dire noi non ha più i finanziamenti però è molto colorato specialmente no che bill dove colore puro la mente se ne va dopo che ho guardato ad esempio il sole oppure lo schermo della tv chiudo gli occhi e per qualche secondo vedo quella forma luminosa impresa su un negativo pericolosi il sole si quando vesti a meno che non metti delle sole si ti rovina vista siete avviso ti rovina lista ci sono ci devo servono delle precauzioni serie il sole si va poi quello si chiama c'è l'impressa e l'impressività sulla retina il sole te la fare male per sempre la televisione normali se viene rimane impresso sulla retina e quindi per un po quindi è un colore che rimane lì immagina se rimanesse sempre non anche davanti a delle cose te lo dico per esperienza personale io fece degli esercizi così avevo 14 15 anni per un po di tempo mi rimase una specie di apparire spariva una specie di luminosità un'aula veniva chiamata che quando appariva luminosa che era il sole che aveva copriva le cose che guardavo quindi mi sono spaventato è ero giocato e quindi un po più fatto non vi consiglio di guardare il sole in quella maniera ci sono dei libri che sono anche lo dicono internet sono dei delinquenti va bene cioè non fate questa cosa oppure se lo fate fatelo con le protezioni giuste che servono a far a deviare i raggi molto forti e ricordatevi una cosa lo dico la butto la ne parleremo ancora più avanti il riscaldamento cosiddetto del pianeta no non è dato dall'uomo è dato dai cicli solari di undici anni solo con la loro dico attenzione alle dichiarazioni meravigliose anche questo dico fuori off topic del dell'america che dicono che stanno confermando gli ufo e che è vero che sono atterrati hanno preso corpi alieni vi ricordo che l'ultima risorsa che avevano e c'era scritta nella nell'agenda 2030 era un attacco alieno simulato specie con forme non reali ologrammi e non per poter era l'ultima risorsa stanno parlando sarà frutta mi fate venti in giro va bene arrivederci con questo non dico non esistono gli alieni e ci sono però guardate con sospetto questa cosa che quando sta avvenendo e come sono colori alla fine quindi il 19 e 19 la pittura magica lo scritto il 26 nezza e poi a settembre faremo altri mettete un like iscrivetevi e se volete al canale vi do un accio a chi non ho risposto comincerò a rispondere dovuto fare altro ma non mi dimentico mai assolutamente mai il film legate attivare ti fette lo diremo dopo va bene vediamo dopo adesso non corriamo prima di camminare devo prima vedere se chi ha fatto le cose fino annezza che vedremo è ancora rimasto equilibrato e tranquillo ha problemi ma poi perché quello se viene fatto veramente apre apre la mente apre la subcoscienza apre le le botole della subcoscienza quindi voglio parlare un po quando faremo nezza parlerò un po con tutti va bene arrivederci un abbraccio a stanno copiando anche il nome caffè tra un po cambia un'altra volta ho cominciato con pillole e l'hanno copiato cambiato in caffè la stanno copiando di nuovo fanno vedere con la tazzina lo cambierò vedremo cosa viene se c'è qualche idea datemi qualche qualche idea va bene qualche spunto vediamo di fare sempre qualcosa di originale poi se ci copiano va bene e ci copia a livelli alti e arrivederci